ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video unboxing dal vostro comstock 92 oggi finalmente mi è arrivata questa fantastica figure di gogetta della serie master release aspettavo da tantissimo un gogetta proveniente dal film il diabolico guerriero degli inferi e bandai ha saputo come accontentarmi un po' perché è il mio film di dragon ball z preferito e volevo omaggiare questo personaggio con una figure alla sua altezza prima di iniziare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se siete nuovi e lasciare un like e un commentino se volete ed ora iniziamo subito con la nostra sigla iscriviti al canale iscriviti al canale eccolo in tutto il suo splendore la figure è esattamente come me la immaginavo anzi dal vivo è anche meglio pensate che questa figure è stata super criticata sul web per via di qualcuno che ha fatto delle foto sbagliatissime ma vi posso assicurare che dal vivo è veramente una bomba vorrei farvi notare poi la posa veramente stupenda e le sfumature sul pantalone che sono veramente spettacolari ragazzi lo sculpt è indubbiamente uno dei migliori visti su gogetta sempre apprezzatissimo il piedistallo trasparente e l'aureola lo rende ancora più figo proprio come nel film quando acquisto una figura di gogetta mi piace sempre tantissimo coprire la metà per vedere vegeta da un lato e goku dall'altro lato come sempre ragazzi vi lascerò le foto nel dettaglio a fine video vi invito ancora ad iscrivervi se siete nuovi e a mettere un like per supportare tutti i miei contenuti grazie di avermi seguito e al prossimo video grazie di avermi seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti